Sì, Aureste, non è che un coniglio col panciotto? E' l'orologio! Oh, può fare, può farissimo! E' tardi, è tardi, è tardi! Questa sì che è buffa! Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore! Ma che? Ma che? Non aspetta notte a me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento! Signor coniglio, aspetti! No, 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 no! E' tardi, è tardi, sai? Io sono già in mezzo in guai! E pur posso dirti ciao, ho freddo, freddo, sai? Guvo morta! Siamo posto per un ricevimento! Sì, Aureste, veramente noi! Noi, il domenico! Noi, non c'è mustà, non c'è mustà! Non c'è mustà, non c'è mustà! E' causa di guai! Oh! D'accordo! Addio, aureste! Addio! Addio, addio! Noi,なんです che! Addio, addio, addio! Addio, addio, addio! Perdio, Next che! Addio! D'accordo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti